E' aperto il mio nuovo shop Potete comprare magliette, felpe e maglie e maniche lunghe Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io E oggi siamo tornati con i fail Questa bellissima compilation di maggio E veramente sono i fail più stupidi di sempre Almeno così c'è scritto nel titolo E niente, detto ciò Iniziamo Perché non so che altro dire Ok Madonna mia che testata Finita male Questo è giusto l'inizio Poi abbiamo un altro genio Eccolo qua Piano, piano, piano Bravo Come rompere un tavolo di vetro Ce l'hai fatta Bravo Ok, un tipo sul trampolino Qui finisce L'avevo detto che finiva male Ma che c'è Come fisicamente possibile una cosa simile Come? Ok, ok 10 punti a grifondoro Bravo eh Nemmeno io che guido di merda So guidare così Vale Ok, ok Oh mio dio Ok, cosa fa questo cane No vabbè No vabbè La vorrei fare pure io con il mio cane una cosa simile Anche se sarà impossibile Ma lo voglio fare C'è fighissimo No vabbè No vabbè Best cane dell'anno Vabbè tralasciamo questo piccolo fail Ma veramente la cosa più bella di sempre Good boy Ok VR E col VR non finisce mai bene Almeno da quello che ho visto io Madonna di testa Ok Sorpresa Ok c'è un cane Cosa vuole fare con quel bastone Mo sbocca il cane E niente c'è l'altro che lo guarda Tipo Ok C'è che cavolo Mi sa che imiti male Tarzan Ecco Come non detto Cosa vuole fare Mo Bravo Madonna M Bene Ma perché la gente è così scema Ok ok Riproduzione della pubblicità Dove ho cuore Cento per cento Non so se lo ricordate Quello spot Ok Oh Menomale che Era tutita la caduta Ma che c***o Si è letterezzata Tutto normale Una cavalletta Dentro un'insalata Cosa fa questo gatto E' scemo No Attento Boom Finito male Di testa Era buona Oh Gesù O si rompe O si fa male Dei Due sulle cose Ah Sono i vigili del fuoco No vabbè C'è lei si è incastrata No vabbè Best figura di merda Oh Gesù Non fate mai robe simili Non ci credo Non ci credo Che qualcuno Ha fatto una cosa simile Proprio dal livello Di cervello Zero per cento Bene La tua vita E' finita qui Ok Un bellissimo mare Una coppia Che cade Ovviamente Dove ce ne sono dei bambini Una palla Finisce sempre male All right Now You know who jumped the highest? Me Me You can't just grab I Taylor jumped the highest Taylor You win Yeah Yeah L'ha fregato il padre No caramella Che c'è? Un cane e una tartaruga No Povero Ah è un gatto Oh mio dio Povero cane E' caduto malissimo Ok No No Finisce male Cade nell'acqua Sicuro Come non detto Io me lo aspettavo già Ok Ecco cosa si fa per imitare i russi Vabbè ma tu sei proprio un cretino Veramente livello Qua il 0% Ma che cazzo Sono rimasto senza parole Bene E adesso Sarò io nella stessa situazione del tipo Avrei chiamato prima di tutto La reception Per dire Ma mi state prendendo per il culo Ma dai Ok Io direi di chiudere qua Questo video Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo alla prossima 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 Noi ci vediamo alla prossima